allora cari amici di liberi tv io vi dico già che giorno 4 ottobre alle ore 18 a cleto presso i laboratori di contrada pianta faremo il primo cinema accessibile con le autodiscrizioni per le persone cieche in mia compagnia c'è il mitico gixi giovanni candido che insomma è una persona che si sa veramente è autonomo sotto tutti i punti di vista però voi non sapete cosa significa essere ciechi e quindi vi benderemo quindi sarà un cinema bendati dove ognuno di voi potrà capire cosa vuol dire essere cieco ma soprattutto percepire con le orecchie con gli altri sensi il film e poi alla fine ci sarà il dibattito quindi cosa fare cosa faremo in questo in questa giornata in questo pomeriggio parliamo parliamo del film dopo sì ma parliamo anche di te cioè tu se qualcuno ti fa qualche domanda gli racconterai un po' si hai fatto la mia storia come hai perso la vista come però hai recuperato come ho recuperato bene la tua autonomia perché tu comunque sai fare tante cose le hai dovute imparare ed è importante però si può fare tutto giusto se si vuole si può fare tutto se si vuole si può fare tutto quindi il messaggio che lanciamo è non solo venite il giorno 4 all'ore 18 ottobre qui a cleto ai laboratori di contrada pianta per il film accessibile colore di iscrizione ma soprattutto lanciamo il messaggio che si può fare tutto se si vuole se ci si impegna non sarà ovviamente l'unica persona cieca presente ci sarà il presidente di cosenza e un altro ragazzo che si chiama christian esatto christopher christopher formica che anche lui è un ragazzo di 25 anni insomma chiunque di voi vorrà potrà capire cosa vuol dire essere una persona cieca non vedete ma soprattutto capire che tutto si può superare e che l'accessibilità è un qualcosa che deve avvenire e l'abbattimento delle barriere si deve concretizzare concretizzare ci devono rompere le barriere però ecco rompiamo le barriere ma le rompiamo anche in maniera particolare quindi vi vi immedesimerete voi ci dimmedesimerete è una parola difficile anche questa è una barriera linguistica insomma tutti bendati il giorno 4 ottobre all'ore 18 insieme a Gixi Giovanni Candido per scoprire un nuovo modo di vedere le cose io penso che sarà bello sarà bello ok vi aspettiamo e un saluto ciao grazie a tutti grazie a tutti